Io non vedo più tutti schiacci da qua Tu questa cosa qui te lo sei preparato per tempo Non vieni per tempo, non preghi niente Ma vatti pure in contra Perché lui è un po' Dico che io entro seguendo lui Ma dopo voglio acarciare te Bisogna che tu gli venga in contra Quindi se lui è fermo gli metrò più limiti Si, però so due cose in mano non riesco Cioè ora lo faccio accomodare tornato nel bicchiere Si, ma anche senza foccarlo Semplicemente gli viene un po' più vicino E qui ho bisogno di avere poca distanza tra di voi Perché tu qui sei nella distanza del boss Quindi finché a lui non lo chi Non è un ambiente, non si è viagli E questo mi aiuta a vedere a te Ti seguo La spaggia Se devo solo parla Già mentre sei al telefono Secondo me tu ti conduci A interessare a questa roba qui Quindi per cui Quello è il senso del Secondo me ti fa più senso se lo incalzi tu Sfoglia tanto, sposta, apri la cartellina Non so Allora, questo è il senso del Si Grazie.